Amici di Molto Food, ormai non è un mistero che mi piacciono un sacco le verdure, perciò oggi vi propongo una famosa ricetta a base di verdure, anzi di sole verdure, e sto parlando del minestrone. Io lo faccio con carciofi, patate, carote, zucchine, sedano, cipolla, aggiungo abbondante acqua, un filo d'olio e il sale. A questo punto lascio che tutto raggiunga il bollore, poi abbasso la fiamma e lascio cuocere per 45 minuti a fuoco medio basso con coperchio, et voilà! Questa è la consistenza finale che dovrete ottenere.